Oiii Oiii Da un bel po' che stiamo cercando un sacco di persone se si siese solo voi E' un po' vuoto il suo ts Cosa? E' un po' vuoto il ts Maaa Altre ts che conosci? Mannaccio Eeeh Da poco sono entrato su ts Prima sono solo su discord Ah com'è discord? Na merda va a cagare mannaggia sto singhiozzo ma ci sono le stesse persone su TS cioè poche è la stessa cosa solo che a me non piace il discord va a cagare ci troviamo un altro di mannaggia sto sa giù no dai stuart luca ma bepiti oi conosci ciro chi è sto ciro? ciro gallo no mannaggia il russo ciro gallo tagliamo server qua qui ma in che server state? eeeh lo stiamo cercando dove andate? dove andate? che vi seguiamo eeeh hai venito a trollare? esatto perfetto frate mannaggia ma allora passateci lo vuoi essere mannaggia eeeh stiamo cercando anche noi mamma mia che un'incidenza e cosa ci ti ha passate quando si scrive cici ooo 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 gare metti un attimo il server quello li quello li nighttem come il cazzo si chiama? ah si nighttem si aspetta dai venite li dai eeeh eeeh ma che c'è nooo ma cazzaccio pochi bamba eeeh 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 io non so che mi ha lasciato eeeh 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 ci vediamo là ciao ciao ma io non ce l'hai pusciuto mannaggia che ti è morto ueeeeh eeeh oii eeeh 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 Mannaggia, chi ti è morto? Saffer PC Mannaggia Oh raga, venite su Clash Royale, quello giù Però state attenti a non farvi bannare No, no, no Sì, ma brava Mannaggia Ciao Ciao, puoi anche Giocare a Clash Royale No, non sono giocato a Clash Royale, era un site E allora perché sarò in questa sala, scusa? Perché era l'unica stanza libera Qua, l'unica stanza libera Che ne stanno 4.000 Eh, però senza altre persone Eh, appunto, dai, andate in una sulle altre, vai No, e noi dobbiamo giocare a Clash Royale Sapete come far passare il singhiozzo? Eh, non devi respirare Guarda la faccia di Albra Eh, muoio Ti spaventi, eh? Eh, non devi respirare per qualche seconda Vabbè, mi muto Oh, oh, come muto, oh, frai Ma come ti fa, eh? Ti sposto mati di oggi, ce ne lo so io Andre, ferma Chi è quello che mi voleva buttare? Chi è quello che mi voleva buttare? Tu li muti, Matti Matt Ma, mamma, la prima mamma, la prima mamma, te mi stai essendo o no? Ah, non è nato con gli scemi Ah, non è nato con gli scemi Vabbè, ehm Chi è che ci faccio gli scemi? Chi è, Rabri? Oh, venite sopra, venite sopra un attimo Ma ti sono rimasto a guardare il tuo cadavere Eh, ho capito, dai, però Chi è, usa, left, join, end, join Chi è? Oh, metti, oh, metti un'altra, oh, metti un'altra, oh, metti un'altra Sì, metti, metti Ma che cazzo è? Waiu, non vi conosco, ma già vi voglio bene ArenaCraft Vai, mamma, mi sono parlato dal selo, vero? Eh, ci vediamo là Waiu, venite in sala e vi assiste Waiu, ma mi dice una cosa strana, studiare All'assistenza, trollo lento, e fai accendere POKEMON Eh, no, Vole Men Polo Men Dai, andiamo su Bad Ki va, in forza E sti ragazzi Number grey Number grey ou O Oh BASTA PRISTO! Che riso, il mio riso! Bello e buono! E sti cazzi? MC Fierli 2, 0, 1, 2, 0, 8 Entro subito! Lely girl La madonna con la vista c'è subito la madonna! Buon bello! Osti! Guarda! Chi doja la countedosa? Chi vuoi giocare? Chi talk to me? Handsome. tirarlaards! ùi! a skill? come si? a skill? a skill? che giova uffa si però c'è grunfish te lo metto nel culo oh kree entro su k2bp dove ne? porca di quale ma si chiama kree o kristo? eh un po' tutti e due cristo cristo senti kree sono su k2bp eh vai su k2bp no hanno bannato il nostro amico è l'altro l'altro amico nostro lei è me pokemon lei è mi chiama kree ah già fai il trucchetto bravo bravo oh ma su kito è morto è trasluta la bannata e se ne è giusto oh per merdo eh